Pablo Picasso, Salvatore Dalì, Leonardo Da Vinci e Caravaggio, Pep Guardiola e Ancelotti. Da oggi però la rivalità più solare dell'Europa presenta anche Prof Porrini, fratino da una parte, Reiko Bernau per citarne alcuni. Insomma, Nazionale Creators contro Seleccion Creatores dalla Spagna, Alicante, una buonasera da Ema Toshi. E buonasera da Bancio ragazzi, buonasera ragazzi, mamma mia che clima Ema! E la Nazionale Creators qui in Spagna a giocarsi l'onore di questa nuova competizione, ecco le squadre che entrano in campo. Sono veramente come se fossi in campo io ragazzi, veramente la preoccupazione, la tensione, è palpabile, è un grande pubblico oggi, Ema qui ad Alicante amici. Intanto vediamo anche le formazioni, questa è quella della Spagna con Reikob in porta, l'abbiamo già vista a Udine, con Poglio, Arnau, Exal, Valenti, Jonathan e Iobeti, il numero 99 là davanti, un panchino a tutti gli altri. Arnau aveva, se non mi ricordo male, Ema aveva veramente stupito a Udine. Arnau aveva fatto, cioè aveva fatto anche gol. Eh, cioè più di uno ce l'aveva fatto, eccoli qua intanto. L'inno nazionale. Ma lo saprà, Shale Boom, non canta, ho sole mio? Di Mauro, quasi direi, non so, chiedo eh. Fiorettino guarda un'altra parte. Eh, cioè stavano facendo una foto evidentemente da quella di un'altra. Carpani, finalmente faccia il nuovo in questa nazionale credito, l'ho visto l'ultima volta, speriamo vada un po' meglio. Non da criminali, questo è facile, perlomeno, con Carpani. Sempre l'inno più bello il nostro, eh? Sì, anche perché quello spagnolo, tra poco lo sentiremo, o meglio, lo immaginiamo perché non si sente molto. Sergio Kulz che fa finta. Sergio Kulz è l'inno brasiliano. Sì, stava cantando una canzone sua, tipo che ha fatto con Zacchino. Eccolo qua, l'urlo dei ragazzi, tra poco Italia-Spagna. Si stanno dando il 5 e le due formazioni con l'arbitro. Non sappiamo il nome. Posso dire che il Poglio, numero 4, il loro capitano, un pochino mi ricorda Faina. Prime. Un po' Faina, un po' Joker, il signor Poglio. Tra l'altro... Sì? No, no, che hanno anche quella della YouTuber League, loro. Ah, sì. La versione femminile è spagnola, praticamente. Eh beh, giusto così. Il numero 45 della Spagna, il signor Polotelli. Un rappresentante della Kings League. Sì, Pogliotelli. O Polotelli. Staremo a vedere com'è. Tanto vediamo allora la formazione dell'Italia, che si presenta con Fene in porta, chiaramente. Carpani e Maui, due difensori centrali. Fratino, Prof Porrini e Manucci. La nostra Manucci, la nostra rappresentante del calcio femminile in questa selezione. E poi là davanti il capitano Crispo. Si comincia. Buon match. Mamma mia. Forza ragazzi, forza azzurri, anzi questa volta. Tutti uniti sotto il logo della Nazionale. Crispo, subito per Fratino, che però lascia il pallone alla Spagna, che prova a ripartire in contropiede. Così, proprio Iobeti contro Maui. L'arbitro lascia proseguire. Fratino, dalla parte opposta per Carpani. Pensa al tiro. Carpani! Re in comp. Subito. Deve provarci, lui ce l'ha quel docco lì, ce l'ha. Eccolo qua, intanto grandissimo duello tra Arnau e il prof. E qua la cornici di pubblico. Il target è veramente proprio piccolino piccolino, diciamo. Non abituati ad andare a vedere le partite. Un'impurità con tanto di Carpani per Maui. E il prof Porro prova ad accendersi in seguito da Arnau. Il prof ancora messo giù. L'arbitro fischia. Sarà calcio di punizione in zona Fratino, Pancio. Eh, sì, ma qua occhio a Stornau qua, ragazzi. Il numero sei, me lo ricordo anche a Udine. Questo è veramente marciscio fisicamente. Qua brutto fallo sul prof, eh. Gli dà una bella stecca da dietro. Prof che chiede anche il cartellino. Intanto è inquadrata la panchina. Berlini, Di Mauro, il Prez e Gnabri. Eh, vedremo se troverà spazio. Io Di Mauro sono molto, molto curioso di vederlo con la maglia azzurra. Il talento napoletano. Fabio Di Mauro. Guarda il pollo. Guarda il pollo come si piazza in barriera. E allora la barriera piazzata da Reikob, composta da tre uomini. Il più basso è 2,15 metri. Allora vedo che è fortissimo questo. Fratino intanto spara addosso a Reikob che l'aspettava lì. E allora ripartono loro le furie rosse in contropiede. Si crea una voragine chiusa immediatamente da Angelino Carpani. L'arbitro dice che si può proseguire. Crispo, poi attenzione. Ma perché ha fermato la palla, ragazzi? Jonathan la prende di mano. Ha munito, ha munito, ha munito. Ha munito. Ma c'è stato un fallo su Carpani, su Porrini imbarazzante. Intanto salaccia, fratino. E va a terra, fratino. L'arbitro non ha nemmeno degnato di uno sguardo il numero 10. Lo Spice Boy, Andrea Fratino. È la prima volta che non finge la sua carriera, praticamente. Rivediamo intanto. Beh, ragazzi. Valenti, praticamente. Una mossa da wrestling. Tanto attenzione, Maui lotta e riesce a tradicare il pallone. Poi il prof Porrini, attenzione, si accende il mago. Il prof dentro per Crispo. Crispo! Oh, adesso voglio vedere. Voglio vedere. Non darci questo. Non darci questo. Clamoroso. Atterramento per Simone Crispo che si mette la mano nel mallet. Incredibile. Devono sparare in testa, praticamente, per prendere un rigore. Pazzesco. Ma dai, raga. Ha due passi. Tanto altro fallo di Iobetti. Inquadrati. C'è gente che parla di arbitrino, Emma. C'è gente che parla di arbitrino, poverino. Siamo vicini ad arbitrino. Soprattutto avere... Mamma mia, ma questa... Intrataccia di Iobetti. Luci da bordo campo. Deve creare fuori il cartellino, però, l'arbitro. Perché veramente sta diventando una partita di wrestling qui, eh. Intanto Lucy. Intervistata da bordo campo. Beh, Lucy da bordo campo ha detto che siamo forti, ma la Spagna è la Spagna e vinceranno loro. Attenzione, Sergio Cruz intanto ha provato di punta alla Brasile proprio. Poi il pallone è uscito. Dice, boh. Sergio Cruz non è molto d'accordo. 12 minuti sono volati. 0-0 tra Spagna e Italia. Però una bella Italia, Emma, che comunque ci sta mettendo carisma. Adesso qualche episodio a sfavore. Due rigori, secondo me, che uno ci potete... Soprattutto quello su Paratino, ma anche quello su Crispo. Intanto, eccolo qua. Polotelli, Polotelli. Non male. Il giocatore della Kings League. E finora abbiamo inquadrato anche Fene, tra l'altro. Era lì, era lì. È il figlio di Piché, questo qua. Questo è Polotelli. Eccolo qua. Attenzione, vediamo Carpani, di nuovo Carpani. Crispo di Tacco, mette giù il numero 9. Mangiato, questa volta senza fallo da parte di Jonathan, o meglio. Non inquadrano mai il ponte di Nona. Si vede proprio che era da solo spagnola. Non riescono a cogliere, hai capito? Ah no, ecco. Sembrava, infatti, un intrataccio anche questa. Da parte di... Occhio che la zolla di Profumi è questa qui. Anche Maui. Comunque a tiratori si è messi bene. Sì, beh, anche Carpani dovrebbe stare lì almeno a parlare. Intanto anche Polotelli... Su TikTok, Carpani, poi è bravo. Un metro e 95 anche per lui. Polotelli. Comunque raga, veramente il figlio di Piché, è allucinante. È identico. Maui e fratino sul punto di battuta. L'arbitro con un gesto... Parte Maui con il mancino. La palla che finisce nella tribuna e fa male forse a qualcuno. Speriamo abbia preso qualche bambino che inquadrava prima, ma la porta in faccia. No, no, ovviamente. E se vedi, vedi che lo inquadra, l'ha ammazzato uno Maui. Attenzione, Sergio Cruz! Ne ammazza un altro. Infatti si è creata la voragine dietro alla porta di Reikob. Perché? Penso che stia dicendo proprio questo, tra l'altro quello all'intervista. Stiamo parlando del fatto che stanno facendo male ai bambini. Non stanno prendendo la porta ai nostri. Diciassettesimo. Tanta Italia, pochissima Spagna. Il prof Porro eleva il pressing italiano. Allora Reikob è costretto ad andare in avanti a cercare Lussi. In grande anticipo Maui. Per Angelinho Carpani. Sale lui, che ha già provato il tiro pochi minuti dopo l'inizio del match. Il prof dentro per Fratino. Che si è addormentato. Non è andato incontro al pallone. Allora riparte la Spagna. Maui. Grande inizio del numero 92. Vabbè, loro veramente poca cosa. Però quando riprovano a costruire. Bravi a far fallo. A oggi. Vediamo questa partita. Dei gran fabbri gli spagnoli. Fino a questo momento. Maui. Per il prof. Sulla faccia di destra. Si è interscambiato. Poi attenzione. Sergio Cruz. Fuori gioco. Ma com'è fuori gioco nel calcio a sette? Pancio, ma c'è, dai. Ma com'è fuori gioco nel calcio a sette? Ah, ma questi hanno sta regola come la Kings League. Che io sinceramente trovo imbarazzante. E quella linea lì, ma. Si. Quella linea lì c'è il fuori gioco. Jonata, proprio a scambiare con Polotelli. Il figlio di Piqué. 1,98 m. Lussi di prima. Il prof Porro pressa. Ruba il pallone. Attenzione. Ancora il prof. Il numero 8. Resista la carica d'esterno per Fratino. Buono pallone dentro. Bello questo. E Sergio Cruz ha un metro dalla porta. Inscivolata. Non è riuscito a mettere dentro. Sì, ma veramente, veramente svegli. Poi il prof, ragazzi, veramente, veramente una gran partita fino a questo momento. Si sta prendendo in mano la nazionale. Ispiratissimo il prof. Bravissimo anche Fratino. Bravo anche Sergio Cruz. Mancato pochissimo. Il prof intanto riprende palla. Ancora il prof. Il prof. Il prof. Roy Cobb. Cosa ha preso? Mamma mia, ragazzi. Che parata di questo Roy Cobb, ragazzi. Ma Porrini, veramente on fire. Qualche gesto. Applausi anche il prof. Rivediamo da dietro. Mamma mia. Si distende Roy Cobb. Ricorda un po' Casillas. Guarda. Ti devo dire. Ti devo dire. Speriamo di no. Fratino, lo Spice Boy. Un'occhiata in mezzo. Pallone sul secondo. A cercare Carpani di testa. Ancora Re Cobb. Ma ragazzi, ma questo è fenomenale, ragazzi. Mette giù la serranda. Non si passa. È bel colpo di testa qui l'angerino, però. Questo, ragazzi, è veramente un super poltero. Ma è un creator. Scusate, siamo sicuri? Si merita tutte le inquadrature del mondo con il piede. Tanto la Spagna rimette il muso fuori. Arnau. Senza mezze misure Carpani per Fratino. Lo Spice Boy, il numero 10. Si accende anche lui sulla tre quarti. Fratino. Fratino! Niente. Non è neanche preso un bambino. Nel punto dove non c'è nessuno. Male, male. Andai qua. Occasione Italia che sta sprecando tantissimo, però. Il prof. Non lo prendono mai là in mezzo. Se ne va il numero 8. Ancora il prof. Per il pallone dentro. Fratino! 1-0 Italia! Profumino! Come Roberto Baggio! Contro Real Madrid. 1-0. Mamma mia, ragazzi. Psicodramma qua. Psicodramma qua. Spagna. Non riescono mai a prendere il prof. Che là in mezzo fa quello che vuole. Poi bravo Sergio Cruz. Poi bravo Sergio Cruz. Cioè, ci eravamo in due per prenderla di testa qua. In due, ragazzi. Però loro avevano tocca roba loro. Tolto il portiere, ragazzi. Doveva finire così, ma giusto così. Se la ridono in tribuna. Se la ridono in tribuna. Perché stavolta l'hanno messa dentro. Non ha colpito nessuno di loro. 1-0 Italia! Occhio però perché è uscito Profumino ed è entrato Sciale Boom. Ed è uscito Maui ed è entrato Di Mauro, se non sbaglio. Sì, Di Mauro c'era anche nell'occasione del gol. Intanto intervistato Gnabri in spagnolo. Sì, immagino. Gli staranno chiedendo del pallone d'oro. Come ma? La vede ingegnata. Chissà che appuntamento. Sì, o di quello. Di come mai non hanno ancora picchiato il suo fratello. Pierino, uno stadio. Uno delle due robe sarà sicuramente. Pierino, l'uomo che riesca di più al mondo dopo Mario Ferri il Falco. E allora intanto finisce il primo tempo. Ci sono delle proteste, mi sembra, proprio da parte della Spagna. Contro l'arbitro, proprio del mister spagnolo. Mi chiedo come mai. E allora riprende il match. 1-0 Italia. Dominio totale nel primo tempo. Intanto Arnau da lontano. E anche Fene. Benvenuto, Fene in partita. Finalmente lo vediamo. Carpani. Tutta l'Italia nella metà campo della Spagna. A scambiare con il principe Berlini. È entrato anche lui. Carpani in profondità. Il prof. Mamma mia. Il prof. Il prof. Il prof. Oh mio Dio. 2-0. Si leva la maglia. Oh mio Dio. Che locura. È il prof. E che locura gringo. Mamma mia ragazzi. Calcio e champagne. Stanno portando il calcio e champagne in Spagna spiegando di qual è la nazionale di riferimento a oggi. Ok? Rivediamo il replay. Ma dove l'ha messa? Fatela vedere a quei bambini lì dietro come si gioca a pallone, per favore. Intanto Di Mauro. Di Mauro al limite. Prova a scambiare con il prof. Parlano la stessa lingua. Ma questo è fuori gioco, caro prof. Si riprende con il rilancio di Reikob. Che strana però questa regola. Sergio Cruz. Prova a puntare. Sergio Cruz. Se ne va. Sergio sulla linea di fondo. Metta in mezzo Di Mauro. Troppo avanti. È stato pescato Di Mauro. Però insiste l'Italia con il prof. Ancora Fabietto. Eh no. Ma allora che cos'è questa qua? Almeno il cartellino, arbitro. Veramente ambiguo. Intanto vediamo il principe. Il principe che commette fallo su un tarantolato. E facciamo unizione. Eh vabbè, allora me ne vado. Guarda Emma, la prossima così me ne vado. Te lo dico. Ci abbiamo proprio visto il classico esempio di un arbitrino spagnolo. Se la ride Gnabri. C'è poco da ridere, caro Gnabri. Siamo al trentesimo. 2-0 Italia. È una colpa sua. Gli hanno messo praticamente. La Gnabri face. Eh sì, è così lui. Anche quando gli danno palo nei primi incontri. Fa sempre quella faccia lì. Il fallo tra l'altro era proprio suo. E allora Arnau contro Fene in posizione. Così. parte Arnau con la conclusione direttamente sulla barriera. Il Chico Fitness cade come un mozzarellone. Ha fischiato farlo, scusa. Perché gli ha stoppata. Credo. E' una regola in Spagna. Sentiamo Crispo? Sta spettando l'arbitro, spero. Eh, forza Spagna. No, forza Spagna e forza Italia. E forza Italia, spagnolo. Siamo amici. Siamo amici. Siamo amici. Sempre amici. L'arbitro spagnolo, ma... L'Italia... L'arbitro... Italiano. Italiano ha annullato gol a mio regolare. Ah sì? Italiano. Sì, sì, è vero. Vai a vedere. E Crispo si lamenta e fa bene. Intanto c'è Arnau sul punto di battuta. 35-50 sul cronometro. 2-0 Italia. Parte il numero 6. Gode la Spagna. Eh, non l'ha vista partire qua a fine, secondo me. Dopo non è riuscito neanche... A muoversi, praticamente. Aveva davanti Carpani. Forse... Cioè, non ha letteralmente visto... La traiettoria della palla di Arnau. Accorciano, quindi, le furie rosse. Vediamo. Tunnelà Carpani. Tunnelà Carpani. Eh, qua Carpani potrebbe fare qualcosa di più, no? Tanto vediamo il Chico Fitness. Si sbarazza così da Sergio Cruz. Altro fallaccio non fischiato. Vanno avanti loro. Arnau per... Jonathan. In mezzo. Jonathan! 2-2. Sì, ma a pancio c'era un fallo grande come una casa... Su Sergio Cruz. Chico Fitness prima gli hanno dato la punizione perché Frattino ha fatto la barriera. Qua invece è data una pacca... Rivediamo intanto il Chico Fitness. Ah, no? Eh, secondo me è un po' troppo evidente questo... Poi bravo... Forse qua a fine poteva fare qualcosa di più. Intanto Sergio Cruz va a lamentarsi con l'arbitro. Pallone dentro. Crispo! Crispo! 3-2! La funnicolare Vesuviana! Hernan Crispo! Il nostro capitano! Anche il mister! Anche il mister! Efaina in campo! Per il 3-2! Botta e risposta! Manca pochissimo! Uniti dobbiamo uscirne! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Freddato Reikob sul primo palo! Rivediamo! Che mossa! Ma questo è uno schema degli Olimpo ragazzi! Questa non la sbagliano mai loro due! Una tarantola in mezzo all'area! Il Crispo! Intanto vediamo... Fallo... Fallo di un italiano... Per la... Vabbè ma ragazzi è anche Faina... Guarda il re di Ponte di Nona! Guarda il re di Ponte di Nona che educazione! Sì! Mamma mia! Re minacce! All'arbitro! Tanto calcio di punizione per la Spagna! Cosa stai fischiando? Sciale! Tanto Sergio... A Fratino! Al limite Fratino! Fermato! Niente fallo! Riparte la Spagna! Di Mauro! Poi Sergio Cruz! Si è incattivita la partita! Mi spiace dirlo Pancio! Ma è colpa dell'arbitro! Eh! Pessima gestione da parte dell'arbitro! Qui secondo me c'è anche da munire su... Il fallo di prima su Fratino! Che mi è sembrato un po' un intervento importante! Ecco qua! Rivediamo quello che è successo! Fallaccio su Fratino! Tanto il Prez! Un microfono! Fallo intanto! Ancora mentre il Presidente parla! E allora... Di Mauro! Di Mauro! Gli tira anche la palla addosso! Dalla palla in testa! No vabbè ma ragazzi! E allora sputiamogli a Fratino! E mandiamo in vacca la partita! Comunque... Ma guarda che fallo eh! Scusa! Stanno parlando il cervello eh! Ma scusa ma... Soprattutto al Re! Fallaccio sull'anca! Intanto colpo di tacco di Fratino! Per Carpani! Dal limite! Carpani! Reikob! Dai Angelino che ce l'hai quello lì! Ma quanto... Quanto era tempo? 30? Sì! Attenzione Fratino! Fratino Reikob in qualche modo! Insistiamo noi con Berlini! Dal limite dell'area per Sergio Cruz! Rientra Sergio! Sergio! Lascia lì a Fratino che sterza con il sinistro! Poi conclude verso Reikob che se la ritrova lì! È tempo di recupero Pancio credo! O almeno così dice la grafica! La palla rimane lì! Carpani in qualche modo! Si impenna dentro l'area di rigore! Fene nella latiere! Ma no! Eh qua Fene ti dico che secondo me poteva fare meglio! Gol di Exal! Ha provato a fermarla Fene 3 a 3 della Spagna ragazzi! Proprio allo scadere! Il gol di Exal! Nell'uscita di Fene non è riuscito a bloccare il pallore forse! C'era un fallo anche lì! Però diciamo che questa volta mi sento di dire potevamo fare meglio! Sì secondo me c'è stata una leggera spinta su Berlini da parte del loro numero 18 se non sbaglio! Questo qua che ha fatto andare... Sì è vero eh! Però lì devi respingerla col pugni comunque eh! Poi se ci fosse stato un altro tipo di arbitro secondo me questa poteva essere carica al portiere! Intanto il match è finito! Saranno i calci di rigore a decretare chi tra Italia e Spagna! Mamma mia! Vince questo match! Parte Fratino! Dai Andre! Fratino contro Reikob! Parte Fratino Reikob! Alla Giorginio qua Fratino eh! Con il saltello! Tocca la Spagna con Jonata ha segnato il 2-2! Jonata contro Fene! Jonata! Ma questa l'ha fatto bene eh! Questa l'ha tirata proprio nell'angolino! Cioè l'aveva capita qua! Super Fene ma non è andata! Angeligno Carpani contro Reikob! 1-0 Spagna! L'ha sbagliato Fratino per noi! L'ha segnato Jonata per la Spagna! Il primo giro! Carpani! Carpani! Alto! Speriamo abbia ferito qualcuno dietro almeno! Teranno lì vicino! Eccolo qua! Eccolo lì! Eccolo lì! Tanto! Parte David! Segna anche lui! E la Spagna ha vinto! Ma dai ho capito! Allora dategli la coppa! Cioè no dai ma ragazzi! Ma cos'è? Cioè appena vanno in vantaggio! Forse la regola in Spagna è che finché loro non vanno in vantaggio non è finita la partita praticamente! La Spagna vince contro l'Italia! Vince quindi la Spagna questa partita contro la nostra Nazionale Creators la vince ai rigori! La partita che ci farà discutere Ema e secondo me questo anche perché la seconda sconfitta che facciamo con la Spagna è l'inizio di un derby internazionale finalmente eh! Sì beh diciamo che... Doviamo la remontata vera adesso! Adesso dobbiamo riaspettarli qui perché dobbiamo avere la nostra rivincita! Fuori gioco io non me l'aspettavo! Due rigori io non me l'aspettavo! Dobbiamo assolutamente rifare! Vabbè fateci sapere ragazzi la vostra qui nei commenti lasciate un like e iscrivetevi al canale della Nazionale Creators ci vediamo alla prossima partita un saluto da Pancio e dai Matoshi ciao!